ragazzi siamo qui oggi per parlare di Venim una nuova azienda che si è facciata nel panorama del sim racing che ha lanciato sul mercato una versione di pedaliera tre pedali di nome Atrax ad oggi l'unica con licenza ufficiale FIA questo perché l'aspetto estetico di questa pedaliera è preso da quella di una vettura da formula 4 ragazzi l'aspetto estetico è molto molto curato ma questa è solamente la presentazione ci vediamo nella review sigla ciao ragazzi come già vi ho anticipato nell'antefatto siamo qui oggi per parlare di Venim e del modello Atrax nuova pedaliera sul mercato del sim racing che porta tante novità sotto vari aspetti primo su tutti l'estetica perché questa pedaliera vuole ricalcare quella che è una pedaliera di formula 4 infatti anche sotto questo aspetto poi durante la recensione vi andrò a spiegare alcune caratteristiche peculiari di questo prodotto andiamo subito a vedere cosa andremo a trovare all'interno del packaging in primis abbiamo un libretto per le spiegazioni in cui vi verrà spiegato un po il software e vi aiuterà nel montaggio della pedaliera e quelle che sono tutte le possibili regolazioni e angolazioni che possono avere questi pedali un set di adesivi Venim molto carini un set di chiavi inglesi brugole e tutte le viti che servono per il montaggio un set di molle per andare a sostituire le molle originali se le volete più dure più morbide oltre le varie regolazioni possibile sul pedale sempre un secondo set di molle per la frizione e in questo caso ragazzi due tipi diversi di molle che vanno a creare ancora un effetto diverso sul pedale della frizione ragazzi un'intera busta di elastomeri naturalmente sono i soliti che troviamo anche su altre pedaliere fibro elast bianchi verdi e gialli dal più morbido al più duro e anche di dimensioni diverse questo per andarvi a cucire il più possibile il pedale del freno ma ne parleremo più avanti arriviamo poi a parlare della piastra di montaggio questo è un optional dallo spessore di 10 mm molto ben curata verniciata a polvere dove è possibile regolare la distanza tra i vari pedali e anche se l'avrete acquistato montare una sorta di battitacco questa è una parte un po particolare che mi ha lasciato un po senza parole innanzitutto per la serie di sei fori che ci sono nel battitacco per montarlo e secondo me ne bastano tranquillamente due in più questo non è né rialzato né di grande superficie come potete vedere è un abbellimento estetico comodo perché comunque avendo questa parte qui rialzata effettivamente a secondo del tipo di postura che voi avrete sulla postazione potrebbe esservi utile avere un battitacco cioè un punto fermo naturalmente il piede non si muove mai più di questa zona quindi l'ampiezza non è particolarmente importante perché il piede starà sempre al di sopra di questa piastrina però secondo me avrebbero potuto farla un pochino più grande e con meno con meno fori nella parte sopra ma entrambi sono optional potrete decidere di acquistarli o meno un aspetto molto interessante che mi sento di sottolineare è la serie di fori che ci sono naturalmente per poterla adattare alle nostre postazioni finalmente vedo una piastra di una pedaliera con tantissimi fori in modo che vi aiuterà a poterla posizionare nel modo corretto con molta semplicità senza dovervi troppo rovelare il cervello su come posizionarla carino poi nella parte frontale l'adesivo di licenza FIA come vi ho detto è una pedaliera certificata con licenza FIA e al momento che io sappia è l'unica pedaliera che esiste con questo genere di licenza arriviamo adesso ragazzi al cuore della recensione i pedali inizio con gli aspetti che accomunano tutte e tre la struttura per tutte e tre pedali è un monoblocco di alluminio tutte e tre pedali in realtà hanno la parte della struttura portante tutte e tre diverso uno dall'altro proprio come la pedaliera reale nelle macchine di formula 4 e proprio in realtà per questa peculiarità in realtà all'inizio nel momento del montaggio ho dovuto fare delle piccole regolazioni perché in realtà noi abbiamo tanto spazio nelle nostre postazioni quindi possiamo regolarcela come vogliamo per allineare tutte e tre i pedali perché di base in realtà l'allineamento è diverso da quello a cui ero di solito abituato ma naturalmente tramite le regolazioni sulle staffe che tutti i pedali hanno è possibile andare ad allineare come più preferite andare ad inclinare come più preferite tutte e tre i pedali per quanto riguarda la piastra dove appoggerete il piede per acceleratore e freno sono piastre da 8 centimetri e mezzo in realtà danno veramente un ottimo senso di sicurezza quando ci andate appoggiare sopra il piede naturalmente per un senso estetico la parte proprio della pedana è rovesciata sul freno tutti i pedali poi dispongono di quattro asole poste nelle parti frontali con viti m6 che consentono regolazioni ancora più di fino su quella che è lo spostamento avanti e indietro del pedale anche sulla struttura tutte e tre pedali in metallo veramente molto curato naturalmente nel set che mi è stato inviato ci sono degli optional come in questo caso di illuminazione che rendono ancora più bello a livello estetico il pedale sul pedale di acceleratore e frizione poi è possibile tramite questo bullone qui andare a settare la corsa del pedale stesso questa per la massima d'utilità di quello che potrebbe essere poi il settaggio finale della nostra pedaliera anche se è possibile regolare la distanza tra i pedali tramite la piastra dietro ogni pedale ci sono dei fori e delle regolazioni che permettono anche lo spostamento di questo e quindi andare ancora una volta montata a fare le ultime regolazioni a livello di feeling nella pressione questo pedale funziona con una molla a compressione una molla stile quadrato non è quelle molle rotonde cosa molto carina perché non soffre di alcun tipo di deformazione naturalmente tramite la ghiera di precarico potrete andare ad indurire ulteriormente del pedale ma volendo potete montare molle più dure e andare a fare ancora più regolazioni su quella che è il feeling che vorrete al vostro piede per il montaggio e lo smontaggio delle molle non è niente di particolare naturalmente se avrete preso la versione con i led dovete stare un pochino più attenti perché un pochino dà fastidio nella fase di smontaggio alla parte della piastra sopra io vi manderò un video vi faccio vedere come l'ho smontata senza dover smontare nulla si fa in realtà in pochissimi secondi ma sicuramente se non ordinerete la versione con le luci è tutto ancora molto più semplice già sul pedale dell'acceleratore voglio fare una piccola nota sulla solidità di questo pedale ragazzi non ha nessun gioco da nessuna parte le tolleranze nella parte del giunto delle rondelle dei distanziali ragazzi perfetta ragazzi perfetta non esiste in nessun modo la possibilità di un piccolo gioco di una piccola distorsione della pedana ragazzi tutta l'asta del pedale è cementata nel suo fulcro veramente veramente un ottimo lavoro a livello di finitura finale ma questo su tutte e tre i pedali che ha fatto Venim sul loro prodotto perché è un aspetto che molti di noi vanno a vedere in questo caso ragazzi è granitica arriviamo poi alla parte del sensore in questo caso abbiamo una cella di carico come in realtà siamo abituati anche con pedaliere o sync vediamo ormai anche altre pedaliere utilizzano celle di carico anche nell'acceleratore e nella frizione l'azionamento avviene tramite una piccola molla ma naturalmente manderò dei video per farvela vedere ancora più nel dettaglio che durante il movimento va a comprimersi sulla cella di carico e va a dare il segnale al software anche in questo caso ragazzi mi viene da dire mai un'incertezza mai il minimo accenno una perdita di segnale flickering niente niente tutto di estrema qualità il pedale poi si andrà a connettere direttamente al freno che contiene la scheda madre di questa pedaliera in più nel mio caso ho un secondo cavo che è l'alimentazione dei led sempre che andrà connessa al pedale del freno penso che per il pedale dell'acceleratore di avervi detto tutto passerei alla frizione eccoci qua ragazzi subito riconoscibile dalla piastra un pochino più piccola rispetto acceleratore e freno ha una larghezza massima intorno ai 5 centimetri e mezzo ma come vi ho detto l'aspetto estetico è legato a filo diretto con quello della pedaliera reale di formula 4 in questo caso in questo pedale non ci sono led la struttura rimane pressoché identica a quella dell'acceleratore anche in questo caso ragazzi non esiste gioco da nessuna parte è pazzesco veramente il lavoro di costruzione che Venim ha fatto su questo prodotto anche la parte dell'asta ragazzi verniciata molto bene un ottimo effetto visivo ragazzi è la prima volta che vedo di questa di questa fattura e con queste con questa fisionomia devo dirvi che è molto molto bella per quanto riguarda il feeling di questo pedale anche in questo caso abbiamo una molla a compressione anche in questo caso volendo è possibile andarla a sostituire con altre molle che potete acquistare separatamente e anche in questo caso consente vediamo se ce la faccio perché con le mani un po dura un doppio step in realtà in questo caso proprio per la geometria del pedale soprattutto montando la seconda molla si riesce a percepire anche tre fasi come in realtà o anche nella mia pedaliera HPP anche nella parte finale naturalmente questo è sempre dipendente anche dalla corsa che deciderete di far fare a questo pedale più la corsa è lunga e più è percettibile tutti gli effetti che questo genere di costruzioni possono dare ma in questo caso mi viene da dire allineata a quelli che sono già anche altri prodotti che sfruttano questo genere di sistema di cambio inclinazione in cui nella parte finale aumentando la pendenza di inclinazione si va a ammorbidire la corsa direi niente di particolare se non sempre nel sottolineare l'estrema solidità di tutto questo prodotto anche in questo caso potete decidere l'inclinazione che può avere il pedale e la corsa totale che questo può avere tramite la stessa regolazione che trovate sull'acceleratore anche questo è un pedale che funziona a cella di carico sempre nella parte interna vedete c'è questa molla che va a comprimersi sulla cella di carico e anche in questo caso viene da dire un segnale pressoché perfetto anche in questo caso poi abbiamo un connettore stile telefonico che si andrà a connettere al pedale del freno che contiene la mainboard piccola precisazione che riguarda poi anche la cella di carico scelta per il pedale dell'acceleratore sono sensori a 20 bit ragazzi consentono una quantità di segnale davvero davvero alta la scelta dei materiali che ha fatto venom è di alto livello naturalmente ragazzi entriamo in dei numeri pazzeschi effettivamente superato un certo limite a mio avviso non è realmente percettibile la differenza però mi fa piacere sottolineare questo aspetto perché voglio sempre far capire nelle varie aziende che tipo di cura e impegno mettono nel realizzare i loro prodotti penso però sia arrivato il momento di passare al protagonista di tutte le pedaliere il freno anche in questo caso struttura monoblocco naturalmente come vi ho detto la forma è diversa su ogni pedale la pedana identica a quella dell'acceleratore rovesciata rispetto all'acceleratore stesso ragazzi la struttura è molto molto bella soprattutto anche in questo caso con l'optional dei led a livello estetico si presenta molto bene arriviamo a quelle che sono però le peculiarità di questo pedale venom ha scelto una cella di carico da 200 kg in realtà come forza al pedale a secondo poi degli elastomeri o molla che andrete a montare potete variare tra gli 80 e 130 ma secondo me anche qualcosina di più al piede naturalmente parliamo di forze esagerate non credo che nessuno arriverà mai a questo livello di forze però è giusto sapere che tipo anche di materiale e sensori vengono montati su questi prodotti a livello di elastomeri vengono forniti tantissimi elastomeri anche di diversa lunghezza e c'è anche una molla secondo ragazzi per cucirvi il feeling che più preferite io personalmente ho scelto una combinazione con il giallo quello più grande che in realtà è l'elastomero più duro paragonabile a uno shore 90 e due elastomeri verdi che possono essere paragonabili a uno shore 80 nella parte frontale ho subito tolto la molla perché personalmente non mi piace e ho trovato in questa combinazione quella che più preferisco ma naturalmente ci sono tantissime combinazioni che potete andare a fare trovate quella più adatta a voi anche in questo caso si possono fare delle micro regolazioni dando più o meno compressione agli elastomeri ma scegliete soprattutto la tipologia di durezza che più si adatta al vostro piede e soprattutto alla vostra posizione in questo caso benim utilizza fibroelast che sono elastomeri che vengono utilizzati da tantissime aziende in realtà adesso un po la tendenza è quella di andarseli a fare da soli però personalmente fibroelasta è un'azienda consolidata in questo in questo mondo in questo aspetto la generosità di diametro che hanno questi elastomeri mi fanno pensare che non si avranno particolari problemi se sceglierete quelli giusti perché naturalmente più la pressione è alta sul pedale e più il mio consiglio è scegliere elastomeri più duri fare una pressione molto forte con elastomeri di uno short molto basso si va sempre a rischiare di romperli che siano fibroelasto che siano di qualsiasi altra marca c'è sempre il rischio di fare danni anche in questo caso mi viene da fare un applauso ai ragazzi di Venim perché hanno scelto una meccanica già vista in altri prodotti però che consente uno smontaggio degli elastomeri un cambio elastomeri veramente molto molto veloce si può fare tranquillamente con le mani e io sapete che è una delle poi regolazioni che uno può andare a fare più volte dell'arco di una simulazione è molto carino poterla fare in maniera veloce anche in questo caso come gli altri pedali potrete scegliere l'inclinazione e tramite le asole spostarlo avanti indietro ma sono tutte caratteristiche comuni a tutte e tre pedali cosa particolare del freno è che contiene la mainboard della pedaliera quindi anche a livello estetico tutto era chiuso all'interno del pedale del freno e sia da questo lato andrete a connettere l'acceleratore e la connessione dei led dell'acceleratore da quest'altra parte verrà connessa la frizione e il cavo che poi andrà al pc in questo caso ha una connessione di tipo Tepsi penso per quanto riguarda anche il pedale del freno di avervi detto tutto cosa molto importante in ogni pedaliera è la parte del software in questo caso i ragazzi di Venim hanno creato una loro applicazione per andare a fare tutti i settaggi più minuziosi e ho fatto un video per voi. Benvenuti alla calibrazione di Venim Pitstop l'applicazione con cui andrete a calibrare la pedaliera Atrax un'applicazione molto completa vi faccio vedere subito come funziona andate a premere su calibrate all vi apparirà questa schermata andate a premere e rilasciate cliccate down adesso la parte del freno premete con quella che vorrete sia la massima forza e rilasciate done e adesso la frizione premete e rilasciate done a questo punto avrete calibrato tutte e tre pedali io amo mettere su tutte e tre pedali sempre una piccola zona morta anche sull'acceleratore intorno al 3% sia sopra che sotto anche alla parte del freno alla parte della frizione e anche nella parte alta della frizione lo potete fare tutto manualmente tranquillamente digitando la percentuale in modo da essere sicuri sempre soprattutto su acceleratore e frizione di premerli totalmente per quanto riguarda il freno non c'è un reale slider che vi permette di settare la forza massima lo potete fare però o andando a settare una forza maggiore durante la fase di calibrazione o rifare la calibrazione oppure andare a mettere una zona morta nella parte alta che vi consentirà quindi di premere con minor forza sul freno a secondo di quello che poi avrete fatto in fase di calibrazione cosa molto carina è la parte alta e come funzionano i led implementati in questa pedaliera che vi dico subito che sono un optional in questo caso se li avete presi nella configurazione vi consentiranno nella parte del freno molto interessante andare a decidere il punto oltre oltre che quando lo premete come vedete aumenta l'intensità sceglierete il punto in cui inizierà a flicherare cioè a lampeggiare questo molto utile per esempio per i giocatori di iRacing in cui la frenata non va mai fatta al 100% potete impostare il punto di soia della frenata in cui naturalmente se la stanza illuminata non si vede particolarmente ma nella stanza buia andrà a illuminare farete caso a questa luce lampeggiante vi indicherà che state nel punto di soia per quanto anche riguarda l'acceleratore anche lì potete scegliere il colore che si andrà ad accendere e che aumenterà in funzione dell'intensità della pressione sul pedale non ha una particolare funzione utile non andrete mai a vedere il pedale dell'acceleratore però nel buio totale è molto simpatico vedere anche questo gioco di luci naturalmente tutti i colori sono configurabili scegliete quelle che più vi piacciono io ho lasciato quelli di base che erano verde per l'acceleratore e rosso per il freno altra cosa importante potrete scegliere l'intensità massima dell'illuminazione e quest'altra parte qui con la telemetria del gioco si andrà a lampeggiare quando entrerà in funzione sulla vostra auto l'ABS anche questa implementazione molto carina di funzioni che non ho mai visto in altre pedaliere sono contento che tutte queste case cerchino sempre di inventare di innovare tramite le loro applicazioni le funzionalità che possiamo avere sulle nostre pedaliere naturalmente come già anche altre applicazioni potrete scegliere la curvatura di tutti i pedali io naturalmente prediligo sempre una curvatura neutra e lavorare meccanicamente sul pedale per scegliere il cambiamento di forza di intensità sulla pressione e magari anche sulla corsa più che andare a creare delle curve particolari naturalmente ogni profilo di curvatura può essere salvato e richiamato in qualsiasi momento in più per chi vuole andare ancora ad approfondire l'aspetto dell'illuminazione ci sono anche dei profili potete creare insomma ragazzi quello che volete a livello anche di illuminazione altra cosa importante è la parte del firmware cliccando su check online andrà a vedere a verificare se ci sono nuovi firmware ma in realtà l'apertura dell'applicazione già fa un primo check nel caso ci fosse un aggiornamento molto semplice cliccato ok la pedale avrà aggiornata tutto in maniera veramente user friendly penso di avervi tutto per quanto riguarda la loro applicazione torniamo a noi ragazzi bentornati come avete visto anche nel software ci sono regolazioni possibili anche sull'illuminazione che rendono questo prodotto abbastanza unico nel suo genere e se avete l'ambiente adatto un ambiente scuro poterlo sfruttare rende il gioco molto molto divertente naturalmente è una nuova azienda è sempre sul pezzo per andare ad innovare la sua applicazione e portargli sempre nuove funzioni infatti faccio anche un applauso a questi ragazzi perché hanno creato veramente un prodotto molto molto particolare ma naturalmente per andarla a vedere nel dettaglio bisogna vedere come si comporta alla guida e anche qui ho fatto un video grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti ragazzi arriviamo alle conclusioni finali ringrazio i ragazzi di Venim per aver scelto il mio canale anche in questo caso per presentare il loro prodotto all'italia un prodotto davvero particolare partendo già dalla licenza FIA che la pedaliera Atrax ha una linea estetica molto di impatto non ho visto mai nessuna pedaliera che avesse questo genere di estetica qua una volta montata nella mia postazione l'effetto è stato veramente molto bello ma poi alla fine è come funziona e la cosa che mi sento di ripetere è la totale assenza in tutti i pedali di qualsiasi tipo di gioco ragazzi ho tenuto e giocato con questa pedaliera per oltre un mese proprio perché è una cosa che faccio quando ho un prodotto nuovo soprattutto di un'azienda nuova testarla ancora più a fondo rispetto anche ad altri prodotti più conosciuti e ragazzi si è comportata sempre in maniera perfetta ho subito apprezzato sull'acceleratore una regolazione di base con una corsa abbastanza breve che è quella che piace a me non ho fatto vi dico ragazzi a parte sul freno particolari regolazioni tutto mi è piaciuta così come me l'hanno mandata solo sul freno sono andato a togliere la molla montato gli elastomeri che fanno avere il feeling a cui sono più abituato con cui mi sento più a mio agio durante la frenata tutto veramente piacevole anche perché proprio la struttura rende tutti e tre i pedali molto fluidi per quanto riguarda la frizione direi un pedale buono in linea con quelli che sono tutti i loro competitor se non per la linea estetica offre sempre a seconda poi della lunghezza di corsa che avrete scelto l'effetto del doppio stacco molto piacevole anche il freno è un freno a cella di carico con elastomeri sono feeling a cui ormai mi sento molto abituato io Sink with Alien ci sono tantissime pedaliere che sfruttano questo genere di sistema e anche in questo caso vi dico ottimo prodotto soprattutto per il fatto di montare una cella da 200 kg e anche i fibro elast si sono comportati in maniera eccellente con il freno sono riuscito a trovare subito un ottimo feeling come vi ho detto non ho fatto particolari regolazioni su nessun pedale la sensazione che ho avuto è stata veramente naturale sono contento di aver provato questo nuovo prodotto soprattutto perché a livello estetico si differenzia da quella che è la maggior parte delle pedaliere che sinceramente ho visto in giro e sono contento che aziende come Venim vogliono innovare un pochino anche alcuni aspetti che ci sono su questo mercato questo prodotto costa 749 euro ma naturalmente metterò tutti i link in descrizione e in descrizione ci sarà anche un piccolo codice sconto per voi questo è il prezzo della pedaliera base naturalmente è una pedaliera che ha numerose personalizzazioni ci sono anche tantissimi colori che in realtà fanno parte sempre del pacchetto base di questo prodotto ma poi si possono aggiungere le illuminazioni il bass plate il poggiatacco vedete voi la configurazione più adatta a voi ma naturalmente vi dico è una pedaliera che già di base si può adattare su qualsiasi postazione su qualsiasi piastra di postazione anche senza la base iniziale naturalmente richiede comunque che abbiate un poggiatacco ma anche nella configurazione base la trovo un prodotto veramente eccellente naturalmente la feature dei led per chi la sfrutta naturalmente nel mio caso gioco molto spesso in realtà virtuale quindi per me è la stessa identica cosa averli o non averli ma chi gioca con i monitor è al buio la feature della regolazione del lampeggio a una determinata pressione la trovo molto molto carina ma naturalmente lascio a voi le conclusioni finali vorrei sapere nei commenti cosa pensate di questo nuovo prodotto se il video vi è piaciuto ma ragazzi commentate spolliciate facciamo lavorare quest'algoritmo di youtube fatemi crescere il canale io ci metto il massimo dell'impegno come vedete aiutatevi ringrazio ancora i ragazzi di Venim per avermi supportato e aver portato il loro prodotto nel mio canale vi ricordo sempre poi mds simparsa andatemi a cercare su facebook mettete un bel pollice anche lì per supportarmi ragazzi è l'unico modo non ci sono altri modi e questo se vorrete altre recensioni ci vediamo alla prossima ciao